salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video questo video sarà completamente a tema imax lisp che cos'è imax lisp? è il linguaggio che viene utilizzato per estendere imax e nello specifico è un dialetto lisp quindi è uno di quei linguaggi con tutte le parentesi in particolare è questo questo è il codice di cui andremo a parlare in questo video ora perché voglio portare questo codice voglio portare questo codice per costruire un po di intuizione rispetto a come funziona imax lisp e a come scrivere codice in imax lisp con l'idea di estendere le funzionalità offerte da imax io ho già fatto vari video sul canale su che cos'è imax sul perché utilizzo imax ho fatto un mini tutorial su come poterlo imparare bene in questo video il focus sarà costruiamo intuizione per scrivere codice imax lisp in modo da estendere le funzionalità di imax ed in modo da sfruttare le funzionalità di imax perché la cosa che mi sta piacendo di imax lisp che in questi mesi lo sto utilizzando per vari progetti personali è proprio l'idea che va in stretta sincronia con imax con il text editor imax ovvero molto delle azioni che tipicamente uno fa quando utilizza imax possono essere scriptate all'interno di max lisp e molte cose si scoprono appunto semplicemente programmando e io ci sto investendo tanto tempo per imparare queste cose quindi può essere utile prendere un esempio concreto di codice reale che ho scritto per un mio bisogno personale e di discuterlo di spiegarlo di discutere di come l'ho costruito pezzo dopo pezzo ora che cosa fa questo codice nello specifico bene questo codice questo qui che andremo a discutere in questo video lo utilizzo per generare il feed rss a partire da una descrizione dei miei video quindi ho un file org questo youtube punto org questo per esempio è il file org del mio canale inglese qui ho varie entries ad esempio questa di web exploitation e per ogni diciamo video ho un outline con tutta una serie di proprietà per esempio il titolo l'id che mi da youtube la playlist la data di pubblicazione e via dicendo altre informazioni tipo la descrizione i timestamp i riferimenti e via dicendo appunto quindi questo per ogni video e l'idea è che tramite questo codice di max lisp questo che vedete che sono più o meno 300 righe di codice quindi neanche tanto effettivamente io sono in grado di prendere questa descrizione questo leggero questo file org mode e generarmi un feed rss che in particolare si trova in questa cartella public feed rss e quindi abbiamo a sinistra il file org mode e a destra il feed rss che viene generato che come potete vedere è un file xml quindi io utilizzo i max lisp per leggere il file org passare tutte le entry ovvero riuscire ad estrapolare tutte le informazioni e poi per ogni video mi genero un elemento item uno di questi item e quindi a che fare principalmente con manipolazione del testo con scrittura di file eccetera 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 ora per chi fosse interessato a questa cosa io ho scritto un blog post sul mio blog tecnico rss feed for youtube through i max lisp questo scritto in inglese ma fondamentalmente spiega tutto quello che faccio e quindi mi baserò su questo blog post e poi assieme esploreremo il codice in modo interattivo e quindi questa è l'idea del video spero che possa essere interessante spero che in particolare il target di questo video sono le persone che vogliono imparare come estendere i max tramite i max lisp che ovviamente sono una nicchia molto ristretta di persone questo lo capisco però l'idea è che per queste persone questo video potrebbe essere utile almeno io lo spero questa è la mia speranza e niente possiamo partire con il video quindi io scrivo appunto parto il blog post descrivendo che adesso due canali youtube che gestisco entrambi nello stesso modo e la cosa figa di questo codice è che si adatta ad entrambi i canali quindi io posso scalarlo a n canali e funziona ugualmente quindi lo specifico io ho due un italiano un inglese e in questo file youtube.org che cosa ho ho tutte le informazioni di interesse per esempio il titolo l'id generato da youtube la playlist la data di pubblicazione e delle informazioni sui folder che non tratteremo perché non ci interessa e poi ho tre specifiche sezioni per ogni video che sono la descrizione i timestamp e i riferimenti e qui ho messo uno screenshot ma l'avevo fatto vedere prima quindi ce l'abbiamo anche in modo letteralmente interattivo qui è proprio questo è questo youtube hang e niente quindi questa è l'idea ora ci sono ovviamente un sacco di dettagli io ho scritto altro codice max lisp che mi permette di generare queste repositories queste kitab repositories che contengono fondamentalmente tutti i video del canale sia italiano che in inglese faccio questo sempre con i max lisp ma la funzionalità che si occupa di generare il feed rss è più ristretta mentre tutto il codice mi permette di gestire queste repositories è un po più grande ovviamente quelle che si occupano solamente di questi feed sono più piccole in particolare i due feed sono questi youtube dash it youtube dash yang english e sono disponibili sul mio sito e quindi qui ho fatto prende ho messo tutto il codice sotto una licenza mit quindi ci potete fare quello che volete potete copiare il link e lo potete scaricare con per esempio un w get questo caso ce l'avevo già quindi questo lo posso eliminare e mi ha scaricato rss.il e quindi possiamo iniziare a leggere questo codice e a tale fine io leggerò il blog post e lo tradurrò e qui potrò giocare appunto con i max lisp ora possiamo iniziare dalle prime istruzioni le prime istruzioni stanno assegnando dei valori a delle variabili nello specifico in questa variabile che ha questo nome particolare youtube to git slash metadata dash file una cosa figa del lisp perché ricordiamo che i max lisp abbreviato in elisp è un dialetto del lisp quindi prende tante idee da questa classe di linguaggi chiamata lisp e una cosa figa di questi linguaggi è che le variabili possono avere anche i caratteri speciali senza nessun tipo di problema io quindi sto assegnando a questa variabile la stringa youtube punto org quindi le stringhe sono dei valori che possiamo rappresentare in max lisp molto molto tranquillamente con questi doppi apici quindi questa è una stringa ora la l'istruzione che effettua questa assegnazione alla seguente struttura abbiamo una parentesi delle parentesi tonde che racchiudono la nostra istruzione il primo elemento della parentesi è l'istruzione che vogliamo eseguire no un po la funzione che vogliamo applicare in questo caso è set q poi abbiamo come secondo elemento la variabile e come terzo elemento il valore bene la cosa carina dell'isp secondo me è proprio il fatto che tutte le istruzioni in lisp hanno la stessa struttura ovvero su tutto questo codice si presenterà più e più volte la stessa struttura in cui avremo delle parentesi tonde in cui il primo elemento è l'istruzione da applicare è come se fosse l'operatore che vogliamo applicare e poi restanti argomenti i restanti diciamo elementi del all'interno della parentesi sono gli argomenti della funzione quindi è come se io avessi una funzione f che prende due argomenti x ed y però io all'interno del linguaggio lisp questo lo scriverei come f xy tutto racchiuso da parentesi tonde infatti lisp è pieno di parentesi tonde e quindi per questo fa l'assegnazione io posso eseguire in modo dinamico questo codice all'interno di imax facendo ctrl x e ctrl x ctrl e e lui mi esegue questa istruzione e poi me lo posso pure stampare faccio posso fare message message prende una format stringa quindi posso dire message prende una stringa e questo è l'argomento se apro i buffer messages io fondamentalmente mi trovo stampato youtube.org qui posso pure scrivere variabile due punti youtube.org quindi questo il funzionamento del message è utile per fare debug veloce ed è simile alla printf in c quindi noi abbiamo il concetto di format stringa che questo primo argomento la format stringa poi specifica per esempio il fatto che ok qui ci deve essere una stringa e poi tutte queste cose che noi mettiamo quelle percentuali le andiamo a prendere dai successivi argomenti io questo lo utilizzo molto spesso per diciamo debagare velocemente il valore di una variabile e quindi questa è la prima istruzione ora la seconda assegnazione è sempre un set queue quindi va sempre ad assegnare un valore ad una variabile però come possiamo vedere questa volta le cose non sono banali come una semplice stringa perché perché prima di tutto notiamo questo apicetto quindi abbiamo sempre delle parentesi tonde ma abbiamo un apicetto ora che cosa significa questo apicetto come ho detto prima se io ho semplicemente una serie di parentesi un delle parentesi tonde che racchiudono qualcosa tipo uno due o tre io se io provo a valutare il valore di queste parentesi tonde ottengo un errore perché perché in questo caso lui prova a prendere il primo elemento della parentesi tonda e è come se lo interpretasse come un simbolo di funzione il problema in questo caso è che uno non è un simbolo di funzione 1 è un valore atomico è un intero e quindi se io vado ad eseguire questa cosa lui mi fa proprio entering the bugger e mi fa guarda invalid function 1 ovvero la funzione che volevi chiamare non è effettivamente una funzione se io qui al posto di uno metto più che è effettivamente una funzione io posso eseguire questa cosa e ottengo 5 quindi l'idea qual è l'idea che se io non ho apici ogni volta che io vedo una s expression queste parentesi tonde sono chiamate s expression abbreviati in s exp io la vado ad eseguire e per eseguire una s expression prendo il primo elemento della parentesi lo tratto come se fosse una funzione prendo tutti gli altri elementi della parentesi li tratto come se fossero argomenti e ritorno per esempio in questo caso come se fosse più 2 3 che sarebbe 2 più 3 cioè 5 qui ci posso pure mettere 4 dovrei fare 2 più 3 più 4 stessa cosa c'è però un operatore molto molto interessante in lisp che è l'operatore quote che è anche scritto con questo apicetto ora come detto prima se io valuto il valore di questa s expression senza apicetto lui la va effettivamente a valutare cioè tutti gli elementi all'interno delle parentesi sono risolti dalle valutatore di lisp quindi che vuol dire vuol dire che se io per esempio qui una variabile tipo mi faccio youtube to git a e poi qui metto gli assegno il valore 5 magari e quindi assegno questa variabile e poi che faccio 1 più youtube to git a lui qui mi dà 6 perché lui mi vede guarda questo qui è un simbolo di variabile e quindi me lo va a prendere e mi va a prendere il relativo valore che è 5 e via dicendo se però metto l'apicetto davanti le cose diventano un po' più complesse perché a questo punto lisp non andrà più a valutare l'espressione ma bensì mi ritornerà l'espressione con la sua natura simbolica e questo che con che voglio dire voglio dire che se io vado ad eseguire questa espressione con l'apicetto lui mi ritorna la s expression con il più 1 e il numero della variabile in altre parole lui si è fermato a livello del simbolo non è andato oltre non ha provato a dare valore a quei simboli non ha provato a capire il significato di quei simboli ha semplicemente visto il modo in cui io da programmatore ho inserito questi simboli nella tastiera e lui ha detto ok questo va bene ci sono tanti modi per ottenere questo risultato uno può anche utilizzare la funzione quote che fa letteralmente la stessa cosa diciamo l'apicetto è una specie di short end piuttosto che scrivere quote ogni volta però l'idea è sempre quella e quindi ognuno può fare questa cosa se poi vuole se uno poi vuole valutare un'espressione data in forma simbolica posso utilizzare evil quindi fondamentalmente evil mi fa quello che facevo prima all'inizio no mi va a calcolare effettivamente il valore della funzione in questo caso ottengo 6 perché perché lui va a risolvere il simbolo più e gli ritorna la routine che effettua la dizione mi va a risolvere il valore 1 e gli ritorna 1 perché questo è il valore di 1 mi va a risolvere il valore di questa variabile e gli ritorna 5 e quindi poi lui va ad applicare la routine per addizionare 1 a 5 e mi ritorna 6 quindi io posso andare sempre posso trasformare le espressioni da simboli a valori da simboli a valori con questo gioco delle evil quote evil io posso mettere un'altra quote se metto un'altra quote qui notiamo che ottengo la quote di evil quindi io posso giocare con questa cosa ora questo è uno degli aspetti degli spa più interessanti e anche all'inizio uno che può confondere molto bene in questo caso io devo utilizzare la piccetto qui perché perché altrimenti se io non utilizzo questa piccetto lui considerebbe questa parentesi tonda grande e proverebbe a valutare questa espressione ma dato che il primo elemento di questa parentesi è un'altra parentesi e questa parentesi non rappresenta una funzione ma rappresenta dei dati lui mi darebbe un errore cioè se io tolgo questa piccetto e prova a valutarmi tutto a questo setq lui mi dice invalid function questa roba non è una funzione valida se io però invece metto l'apicetto e prova a valutare questa cosa lui non mi dà nessun tipo di errore e perché non mi dà nessun tipo di errore perché quello che ho fatto è ho preso tutta questa struttura a lista e l'ho quotata quindi per me adesso sono soltanto simboli non hanno un valore che lo vado a risolvere a questo in questo momento sono soltanto simboli ora in particolare queste sono anche dette association list oppure assoc list e in particolare qui ho due assoc list una e l'altra e ciascuna fondamentalmente mi specifica una una repository e una repository è specificata dai come se fosse una specie di dizionario non è implementi non è da potesse implementativo un vero e proprio dizionario ma è come se avessi una serie di chiave valore chiave valore chiave valore per esempio alla chiave name associo il valore youtube slash it la stringa alla chiave name associo la stringa youtube it alla chiave label associo la stringa it grande alla chiave private associo questa path stessa cosa per public associo quest'altra path ora perché è comodo definire le strutture in questo modo perché in realtà questo è quanto ci basta per definire una struttura poi possiamo accedere ai singoli campi in questo modo io posso dire assoc default di fondamenta allora dato che questa è una lista ci sono vari modi per accedere agli elementi di una lista in particolare posso utilizzare per esempio la funzione ent la funzione ent come funziona prende una posizione e una lista tipo 1 2 3 o 4 e mi ritorna l'elemento a quella particolare posizione tipo in questo caso se io eseguo ent di questa roba lui che cosa mi ritorna mi ritorna 2 perché perché gli indici partono da 0 quindi ent di 0 di questa roba mi ritornerà 1 ed infatti qui mi ritorna 1 ent di 1 mi ritorna 2 ent di 2 mi ritorna 3 se qui metto per esempio 10 5 5 e 10 e poi rifaccio di 3 lui che farebbe 0 questo qui 0 1 2 e 3 mi dovrebbe ritornare 10 ed infatti mi ritorna 10 se io provo ad ottenere il che so il l'undicesima posizione lui ovviamente mi ritorna nilla perché dice guarda questa posizione non esiste mi ritorna nilla questo è un modo molto intuitivo di utilizzare storicamente le funzioni storiche sono il car e il cdr ora il car che cosa fa il car prende la 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 testa della lista io se faccio car ottengo il primo elemento di questa roba quindi ottengo il primo elemento se invece faccio cdr ottengo la coda della lista e da notare che la coda della lista questo può confondere abbastanza qui perché non si capisce bene però fondamentalmente quindi notiamo questa è la coda e invece quest'altra è la testa quindi car invece quest'altra è la testa ora se noi notiamo le differenze la coda della della lista contiene una presenza in più fondamentalmente perché è una lista formata da un solo elemento mentre la testa della la lista è quell'elemento che ovviamente in questo caso ha solto una lista ora perché questo ha senso ma è una cosa anche molto lisp specific perché appunto in lisp tutto è una lista e in particolare non è neanche vero che tutto è una lista perché in realtà tutto è un albero binario in questo senso che vuol dire vuol dire che noi consideriamo una sequenza di elementi la possiamo spezzare in questo modo logicamente no la possiamo dire ok io ho la mia testa che è una cosa e poi ho tutto quello che segue dalla testa quindi io ho queste routine fondamentali per operare su i primi elementi delle liste e poi tutto il resto per esempio se voglio il secondo elemento che cosa dovrei fare dovrei prima fare il cdr della mia lista no e questo mi dà la coda a partire però dal primo elemento quindi mi dà tutto quello che sta dopo il primo elemento e poi faccio un bel car per ottenermi proprio il secondo elemento quindi questo tipo di operazioni sono cose molto intrinseche nei linguaggi lisp all'inizio possono confondere ma poi uno si fa la mano secondo me o comunque io mi sono abituato quindi è abbastanza tranquillo appunto c'è una c'è un minimalismo estremo in linguaggi come lisp che è una cosa che può intimorire ma personalmente a me piace molto in realtà è un qualcosa che mi affascina e a cui sto ultimamente sto proprio pensando a ragionare in questi modi ora nello specifico come faccio a selezionare un elemento di questa di questa roba bene in realtà ci sono delle funzioni apposite infatti se continuiamo a leggere io faccio chromium io qui vabbè ho le strutture dati di cui ho discusso dopodiché per accedere ad un campo specifico in questa struttura io utilizzo la funzione youtube git get prop che a sua volta utilizza la asoc default quindi qui vediamo come si definiscono le funzioni questo è un primo esempio di funzione mettiamolo qui in alto questo è un primo esempio di funzione ora come sono definite le funzioni notiamo tutto è una lista alla fine però la cosa interessante è che andando a manipolare quali sono il significato dei vari argomenti di questa lista abbiamo cose diverse in questo caso l'operatore defun che è utilizzato per definire nuove funzioni troviamo il nome della funzione come secondo elemento la lista dei parametri come terzo argomento e poi la lista delle istruzioni da eseguire che in questo caso è soltanto un'istruzione e l'istruzione è asoc default che prende il field e prende la repository ora come utilizzo questa roba facciamo una cosa del genere facciamo un youtube get prop la chiamiamo la funzione con il il field voglio fondamentalmente il name e la repository voglio fare il car voglio ottenere il car di youtube to git repos quindi che vuol dire voglio applicare è come se io volesse estrapolare il valore associato a name di questa particolare struttura che sarebbe la la testa di questa di questa lista perché il car io faccio così e ottengo proprio il valore youtube it che sarebbe quello associato a name se ho qui metto label ottengo it se ho metto private ottengo la stringa insomma in questo modo con questa funzione io posso entrare dentro la repository per prendermi ciò che mi interessa tipo public private eccetera eccetera e quindi questa è una prima funzione qui invece ce ne sta un'altra che semplicemente è un altro modo per è come se fosse una mappa che mi dice ok se io ti do label se io ti do title tu mi dai title in grande come stringa se io ti do playlist come simbolo tu mi dai playlist grande come stringa e via dicendo è un modo veloce per ottenere fondamentalmente il mapping tra le proprietà che utilizzo internamente in questo file ilisp e le proprietà che utilizzo nel file org ma niente di che quindi continuano a leggere l'articolo e cosa troviamo troviamo within the specific context of rss generation we are interested in human functions che sono la gener ss e la update rss e qui diciamo troviamo il codice che cosa fa una genera da zero questo maledetto file rss e l'altra effettua un update del file rss quindi generare da zero significa il file non esiste eseguo la funzione e lui me lo genera per fare una piccola demo io posso e quindi ho il mio codice qui io eseguo tutto il codice così me lo carico nella memoria di imax poi posso qui mi apre una bella shell vado in public e rimuovo questo feed qui adesso il feed non c'è adesso faccio alt x youtube to git gener ss notiamo che lui mi chiede la repository il progetto che a cui io voglio accedere dico youtube hang per dire questo qui inglese e poi lui sta lavorando ci stanno mi sta stampando varie cose a questo punto io ho il mio file generato rss dot xml lo apriamo ed è come prima fondamentalmente questo xml quindi è stato generato da zero ovviamente per quanto riguarda il canale inglese ho soltanto una quarantina di video quindi non ci mette molto a generarlo per quanto riguarda il canale italiano ho 195 video questo sarà forse il 196esimo quindi ci mette tipo un minutino a generarlo non è iper veloce non è iper performante però a me va bene così e quindi l'idea appunto è che noi non lo vogliamo generare da zero di volta in volta ma bensì vogliamo fare l'update e quindi abbiamo queste due funzioni ora queste due funzioni sono caratterizzate dalla stessa struttura perché perché la prima allora prima di tutto non prendono argomenti quindi non c'è bisogno di specificare nulla la prima istruzione che seguono è questa interactive che ha un valore specifico nel contesto di imax e questo è uno dei primi casi in cui notiamo le differenze tra un generico dialetto di lisp ed invece elisp che esegue nel contesto di imax e più uno approfondisce elisp più capisce che all'interno del linguaggio sono state embeddate sono state inserite tutta una serie di istruzioni che hanno senso solo nell'ecosistema imax interactive è uno di questi esempi quindi lui prima chiama interactive e poi chiama la funzione generess by repo e come argomento gli mette il valore della funzione select repository quindi già qui c'è molta strazione in gioco perché prima chiama interactive poi chiama la repository e poi do la repository in passo alla generess by repo allora andiamo per ordine che cosa fa l'interactive l'interactive è molto semplice io ho quando io lavoro in imax quando una persona lavora in imax fondamentalmente ha accesso facendo alt x a tutta questa bella lista di funzioni qui sotto che sono 7608 se io voglio aggiungere una funzione una funzione da custom a questa lista io la mia funzione la devo marcare come interactive per esempio qui posso fare example e faccio una interactive function che mi stampa nel message buffer la stringa e lo word ora se io semplicemente definisco questo tipo di funzione e faccio la eseguo cioè in imax mi faccio caricare l'esecuzione di questa defun quindi adesso la funzione è definita nel contesto di imax dato che non ha interactive io non posso accedere a questa funzione tramite questo questo menu non la vedo non è indicizzata anche se la posso eseguire la posso eseguire benissimo perché posso fare così faccio così e nel mini buffer ottengo hello world posso vederlo anche da qui ottengo proprio la stringa hello world se qui cambia metto tante o la posso riseguire e ottengo la nuova stringa se invece metto interactive e la vado a rieseguire che cosa succede adesso succede che io la posso cominciare ad eseguire anche facendo alt x infatti notiamo che adesso youtube to get ha questo example quindi ho aggiunto ho esteso l'editor con una funzionalità nuova custom ogni volta che io premo ok in questo menu il corpo della funzione sarà eseguito che in questo caso non fa altro che stamparmi un messaggio nel nel buffer dei messaggi ma potrebbe fare molto altro in questo caso ad esempio quello che fa è chiama la funzione gener ss by repo o update rss by repo quindi uno lo genera da zero e l'altro fa l'update in entrambi i casi però chiamo questa strazione youtube to get select repository che cosa fa questa qui mi fa selezionare in modo dinamico la repository quindi occhiamo questa roba lui mi fa apparire sotto un buffer e mi fa scegliere quale progetto vuoi fare youtube bank o youtube it io posso fare youtube bank e lui mi ritorna l'intero contenuto associato a youtube bank cioè l'intero proprio tutta questa lista con tutti i dati ed infatti l'implementazione di questo select repository è questa ora già qui si vede abbastanza codice elisp quindi cercherò di spiegarla ovviamente anche per questione di tempo non potrò entrare troppo nel dettaglio ma cercherò di chiarire un po l'intuizione rispetto a quello che sta succedendo ora ci sono tanti modi per leggere codice elisp del genere in questo caso però abbiamo una nuova keyword che è questa let star ora che cosa fa una let star una let star sta definendo un nuovo ambiente di nomi e di variabili che vuol dire vuol dire che sta definendo un nuovo spazio in cui in particolare la sintesi di una let è la seguente sempre con le tonde io inizio con il let star poi ho una tonda che contiene il nuovo ambiente e un'altra tonda che contiene il programma che voglio seguire con quell'ambiente ora la tonda che contiene l'ambiente come è strutturata io ho una lista di variabili tipo var 1 con il valore tipo value 1 poi un'altra variabile var 2 con un altro valore valio 2 e quindi questo è il mio ambiente è una serie di liste in cui ciascuna lista come primo elemento il nome simbolico della variabile e come secondo elemento il valore di quella variabile una volta che ho finito l'ambiente ho un'altra lista in cui posso accedere a quelle variabili e posso fare qualsiasi tipo di computazione quindi come no se fosse una funzione che però oltre ad avere accesso a tutte le variabili globali del programma ha anche accesso a queste specifiche variabili tipo var 1 e var 2 se eseguo questa roba lui che cosa mi ritorna mi ritorna allora in vali il messaggio val 1 vediamo un po perché perché giusto perché qui ho messo una parentesi di troppo e infatti lui mi stampa val value 1 value 1 perché perché lui che ha fatto ha eseguito questa messaggio ma questa messaggio stampa una stringa prendendola dal var 1 e qua c'è proprio val 1 ora la cosa figlia è che qui posso mettere anche altre espressioni io posso mettere qualsiasi cosa che poi alla fine diventerà un valore tipo in questo caso mi stampa 3 perché perché è andato a prendere il valore di var 1 ma qual è il valore di var 1 è il valore ottenuto dall'espressione più 12 quindi quando uno vede il let deve subito pensare ok devo separare c'è la parte di assegnazione delle variabili e c'è la parte di esecuzione di codice con quelle variabili ma un po l'inghippo ma anche la bellezza di lispa è che l'assegnazione di variabili può a sua volta contenere codice complesso tipo in questo caso nella select repository io che cosa faccio io faccio prima seleziono il repo name e per selezionare il repo name io utilizzo una funzione che si chiama iv read che mi permette di listare tutte quelle possibilità tipo in questo caso iv read come si utilizza c'è fondamentalmente un label e poi lui prende una lista di possibilità tipo 1 2 3 4 io se eseguo questa roba quindi vediamo un po project per esempio se eseguo questa roba io qui ottengo sotto mini buffer che mi permette di scegliere tra 1 2 3 e 4 quindi la lista di possibilità deve essere una lista di tutte stringhe io poi posso sceglierne una tipo 2 e lui mi ritorna il valore che ho scelto ovviamente in questo caso non è così banale perché perché non ho semplicemente una lista di stringhe arcotate ma ho un map car ora che cosa fa il map car il map car fondamentalmente prende una lista che sarebbe questa youtube get repos e questa youtube get repos è questa lista questa qui all'inizio e poi applica ad ogni elemento di questa lista la questa funzione che è specificata tramite una lambda fatti list è un linguaggio molto funzionale da questo punto di vista questa lampa che cosa fa per ogni elemento che riceve ricordiamoci che ogni elemento rappresenta una repository diciamo esegue su quella repository la funzione asoc default name di repo ovvero si va ad estrapolare il nome dalla repository quindi in soldoni l'esecuzione di questo map car che cosa mi permette di ottenere mi permette di ottenere una lista con due possibilità youtube it e youtube bang ovviamente se qui aggiungesse un altro un'altra roba e qui magari metto che ne so un altro name tipo youtube uk non ha senso però giusto per esempio e poi lo rieseguo riese con questa roba lui mi fa mi stampa ovviamente youtube it youtube and youtube ok quindi tutte le possibilità che poi aggiungo qua saranno automaticamente gestita da quel map car ed è per questo che ho messo il map car quindi lui itera su tutte le repository e mi va ad estrapolare il nome delle repository e poi da in passo questo nome a questa iv read e questo mi permette fondamentalmente di ottenere questo prompt in cui ho le varie possibilità questo caso devo rieseguire qui per togliere quello youtube ok e qui più o meno questa è l'idea una volta che però ho letto il repository name ma quello che io voglio non è soltanto il nome della repository voglio proprio l'intera struttura dati quindi tutti i campi a questo punto quindi associo un'altra variabile repository ce notiamo qui la struttura no tutte queste tonde è la definizione della funzione poi ho un letto il letto aveva prima definizione di ambiente e poi esecuzione in questo caso l'esecuzione è molto banale perché ho semplicemente ritorno il valore di una variabile invece la definizione dell'ambiente definisce due variabili la prima si marepo name ed ha questo valore ovvero il valore ottenuto dalla iv read con questo label su queste possibilità che ricordiamo è l'intero diciamo insieme di nomi delle mie repository dopodiché la repository o come la ottengo la ottengo sempre a partire da tutte le repository faccio questa volta un sec filter ovvero vado a filtrare e come filtro ovvero vado a selezionare fondamentalmente tutte quelle repository che rispettano questa condizione in questo caso la lambda sta definendo un predicato che io applico su ogni elemento su ogni repository fondamentalmente dico guarda che il nome della repository deve essere uguale rispetto alla stringa quindi uno string equal quindi devo fare la comparazione di stringa di byte della stringa al nome che avevo selezionato prima quindi è come se facessi due iterazioni qui prima seleziono il nome con iv e poi vado a selezionare l'intera struttura dati una volta che ho l'intera struttura dati la ritorno ora capisco che questo possa essere diciamo confusionario se uno non ha mai visto questi costrutti ma questi sono tipici costrutti che si ritrovano in programmazione funzionale abbastanza semplice dopo tutto la programmazione funzionale può andare anche molto oltre queste cose questo è un po la baseline della programmazione funzionale il risultato finale è che quando noi eseguiamo la select repository io posso o la lista di nomi seleziono il nome e lui mi ritorna l'intera struttura dati quindi con tutti i dati che poi io do in pasto a queste altre funzioni no a questa gen rss by repo o update rss by repo e quindi a questo punto non possiamo dire ok che cosa fa la gen rss by repo questo è il codice di questa funzione che andremo a trattare adesso ora per quanto riguarda questa funzione quindi qui che cosa abbiamo nuovamente definizione di funzione nome di funzione il singolo argomento che prende che è una repository quindi fondamentalmente sarà questa struttura una di queste due strutture potrebbe essere youtube hang quello quindi la struttura per il canale inglese poi che cosa all'interno ho sempre un let un let star o l'ambiente delle star e il programma che viene eseguito in quell'ambiente in questo caso questo programma è un po più grande non è una semplice ritorno il valore di una variabile ma è with temp buff che poi andremo a capire che cosa fa le variabili sono due e sono public e rss feed public lo prende direttamente dalla repository in particolare lui prende la proprietà public direttamente dalla repository nel caso di youtube english il public sarà questo home leo project foundation bla bla youtube hang public quindi è il folder in cui andrà a scrivere il public fondamentalmente e poi calcola questo rss feed ora qui spieghiamo anche la differenza tra let star e let senza star perché ogni tanto può capitare di vedere questo let senza la questo asterisco ora perché utilizziamo l'asterisco bene l'idea è che i nomi le variabili che andiamo a definire man mano possono essere utilizzate nella definizione di nuove variabili in modo consecutivo cioè che vuol dire vuol dire che io posso utilizzare la variabile public per definire la variabile rss feed ovvero il modo in cui calcolo il valore di rss feed lo faccio a partire da public più altri dati in questo caso che cosa faccio chiamo la funzione concat con due argomenti questa stringa arcodata che rappresenta lo slash feed slash rss punto xml e il valore di public e lui mi fa la concatenazione tra le stringhe cioè in poche parole io in rss feed ci sto mettendo il file path che rappresenterà dove l'rss feed si troverà nel sistema operativo cioè il path dell'rss feed se qui per esempio ci metto se andiamo in messages è letteralmente slash tempi slash feed slash rss punto xml e quindi quelli ci metto il path mentre in public ci metto il valore che messo sempre appunto nella nel repository la differenza tra il let star il let normale è che nel let star nel let normale nel let normale io questa cosa non la posso fare ovvero se io prendo la stessa roba qui e però ci metto un let normale e qui public magari ci metto una stringa arcodata giusto per slash pubblica così giusto per provarlo e che poi ci metto un messaggio iei e chiudo tutto il body o se eseguo questa cosa fondamentalmente lui mi dice guarda symbol valios variabili svoid public cioè lui non riesce a trovare la variabile public e quindi mi dice guarda che il valore nullo è vuoto e nil perché perché non è un let star con il let star lui questo public se lo va a vedere prima nelle altre variabili ho definito e solo dopo all'interno del nome diciamo globale di nomi e dello spazio globale di nomi e infatti con il let star se io eseguo tutto questo codice lui nel messaggio nel buffer dei messaggi mi stampa iei perché lui lo riesce a trovare public altrimenti mi dà l'errore guardi io non riesco a trovare public e via dicendo quindi questo è per dire il let star a questo punto abbiamo questo with temp buffer e questo è uno dei costrutti più carini dell'emax lisp perché fa capire le integrazioni con emax avevamo già visto no iv read che si va a manipolare il mini buffer e interactive che aggiunge la funzione nelle funzionalità accessibili tramite alt x tramite mx ora with temp buffer fondamentalmente va a creare un buffer temporaneo e tutto il codice che esegue all'interno di questo scopa all'interno di questa parentesi tutto il codice che esegue verrà eseguito nel contesto di questo buffer temporaneo la cosa figa di questo buffer temporaneo e che non ha neanche un nome perché mi max tipicamente i buffer hanno tutti un nome e io posso accedere a questi buffer li posso vedere posso fare roba con questi buffer bene l'idea tipo io posso aprire un buffer chiamatolo as dust questo nuovo buffer e posso fare roba su questo buffer no ma quando io faccio with temp buffer lui mi apre un buffer programmatico in un certo senso che mi serve solo per fare operazioni script abili tramite max lisp e poi alla fine chiude il buffer e quindi lui lo toglie dalla memoria ora è molto utile perché mi permette di avere questa zona di memoria su cui io posso scriptare varie cose per esempio che faccio faccio with temp buffer poi faccio subito un insert ora che cosa fa l'insert l'insert molto semplicemente inserisce l'argomento che è una stringa all'interno del buffer cioè se io faccio insert a lui inserisce un a e inserisce lei inserisce questo carattere nel punto in cui sta il cursore che in questo caso sta alla fine della s expression quindi l'idea qual è è apro questo nuovo buffer temporaneo inserisco una mega stringa che rappresenta fondamentalmente tutto l'header di intersezione dell'erss feed e poi faccio altre cose quindi se io magari che cosa faccio faccio questo concat fa la concatenazione tra varie stringhe e qui io posso avere la stringa iniziale poi il channel poi qui metto un rato da mi hanno youtube e qui metto un qualcosa che dipende dalla repository quindi a seconda della repo qui avrò un'altra un altro valore può essere italiano oppure inglese qui metto poi delle cose che sono sempre le stesse qui c'è un tab perché non dovrebbe essere slash ma semplicemente punto xml e quindi fondamentalmente questo che cosa mi stampa mi stampa letteralmente la partenza del feed quindi tutta questa partenza del feed con alla fine questo new line quindi dopo l'atom link eccetera io ho il new line e quindi questa fondamentalmente anzi in realtà ci sono due di new line perché questo finisce un new line e poi un altro proprio per terminare bene la roba quindi lui molto semplicemente mi inserisce questa stringa e poi che cosa faccio faccio un altro map car ora quest'altro map car però non viene fatto su tutte le repository a questo punto io sto utilizzando un'altra funzione chiamata youtube to git slash videos che prende la repository come argomento e questo mi ritorna una lista di tutti i video che ho fatto per ogni video che ho fatto io eseguo tramite la map car questa funzione e c'è scritto gen rss entry repo e video quindi questa funzione genera la entry specifica per quel video e quindi ho così con il map car sto generando l'entri per ogni singolo video e poi alla fine inserisco i tag di chiusura e una volta che ho scritto tutto questo sul buffer temporaneo perché fino a questo momento io non ho scritto il file utilizzo la funzione bright file per scrivere questo file ora è molto carina questa cosa e quindi la possiamo testare con un piccolo esperimento facciamo vita tempo buffer poi faccio un bel insert e lo poi faccio insert e lo slash poi faccio un place a subscribe ovvero per favore iscrivetevi al canale ora se io seguo questa cosa lui non mi ritorna niente perché perché ha aperto questo buffer temporaneo ha eseguito queste due istruzioni questi due insert e poi non l'ha scritto da nessuna parte quindi come se lui avesse allocato questa memoria in modo dinamico ma poi l'ha subito deallocata perché non gli serve più se io voglio invece che questo diciamo che questa cosa sia effettivamente faccia notare faccio write file e poi magari posso fare test punto txt ovvero scrivimi tutto in test punto txt così chiudo adesso un nuovo file test punto txt che contiene esattamente questa cosa e ovviamente qui ci posso mettere altre cose vi posso mettere lo così vi fa text file e qui fondamentalmente è cambiato il contenuto del buffer questa cosa può sembrare banale ma è molto potente nel contesto di imax perché tutte le manipolazioni di testo che imax può fare adesso possono essere programmate possono essere scriptate per generare il nuovo contenuto in modo automatico in questo caso appunto è semplicemente la generazione di tag xml che rappresentano un file un feeder ss e quindi questo più o meno spiega il tutto è abbastanza tranquillo alla fine cioè una volta che uno capisce una volta che uno entra nel mood dell'isp e capisce queste particolari primitive tipo with temp buffer che all'inizio possono confondere più magari cose come map car le lambda eccetera bene l'idea è che alla fine tutto questo codice è molto molto semplice quindi andiamo a vedere ovviamente questa gen rss entry perché di tutto questo codice l'unica cosa che ancora dobbiamo vedere è questa gen entry ora questa gen entry nuovamente che cosa fa l'idea è sempre la stessa e come vediamo tutti questi codici che stiamo vedendo tutte le funzioni sono molto simili perché hanno una parte di let in cui vado a prendermi tutte le variabili che mi interessano e poi un processamento di quelle variabili per produrre un risultato finale in questo caso io ho sempre un let ho due argomenti che sono la repository e il video specifico ora che cosa contiene un video bene un video lo vediamo alla fine come generato ma fondamentalmente un video contiene le seguenti cose il titolo la playlist la data di pubblicazione l'id generato da youtube una serie di patta e altre cose simili quindi io che cosa faccio prima qui ho un delimitatore ho questo delim che lo utilizzerò varie volte quindi l'ho definito all'inizio poi definisco description ora questo è molto interessante perché io dico ok sto definendo una nuova variabile chiamata description come faccio a definire questa variabile mi apro un buffer temporaneo ovvero per calcolare il valore di questa variabile mi apro un buffer temporaneo e faccio operazioni su questo buffer che operazioni faccio in particolare bene inserisco una stringa quale stringa la stringa ottenuta dalla funzione gen description by video quindi questa funzione mi genererà qualcosa dopodiché a questo punto io devo fare delle manipolazioni di stringhe infatti che faccio faccio begin of buffer faccio replace string begin of buffer replaced regexp begin of buffer replace regexp e poi buffer string ora senza entrare troppo 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 nei dettagli qual è l'idea di queste cose è che io prima metterò all'interno di questo buffer temporaneo una stringa enorme o comunque una stringa grande che rappresenta tutta la descrizione del video a questo punto però io voglio manipolare questa stringa e voglio per esempio rimpiazzare tutti gli slash n con il carattere br con la tag br e poi lo slash n quindi come se dovessi processare questa stringa ora per esempio una replace string che cosa fa prende in tutto il buffer rimpiazza la stringa slash n con questa controparte tag br e poi slash n una volta che però ho fatto la replace stringa il mio il mio cursore va alla fine del buffer quindi per portarlo di nuovo all'inizio devo nuovamente fare un beginning of buffer ora da notare che tutte queste operazioni stanno avvenendo sul buffer temporaneo quindi me le devo un po modellare mentalmente per capire come fare e stessa cosa per questa replace regexp ora in questo caso sto rimpiazzando una regular expression con un'altra e sto utilizzando praticamente il gruppo di cattura questo matching groups per dire qui con lo slash 1 in realtà ci devi mettere tutto quello che va tra queste parentesi tonde però appunto questa è una complessità diversa perché è una complessità delle regular expression che non è il focus di questo video il focus di questo video è capire che quello che sto facendo in ultima analisi è ho un buffer di imax e lo sto manipolando è la stessa cosa che potrei fare nel momento in cui io ho un buffer e magari qui scrive low world quindi low world e poi ci scrivo altra roba no perfetto e poi faccio alt x replace string e faccio replace string e low contest notiamo che lui ad esempio qui non ha rimpiazzato nulla perché perché sta alla fine del buffer se invece vado all'inizio del buffer faccio replace string qui sotto e poi dico ok guarda voglio fare voglio rimpiazzare e low contest notiamo che lui mi ha rimpiazzato e low contest ma il buffer il cursore si è mosso da questo punto se io però faccio beginning beginning off buffer se chiamo questa funzione il cursore mi va all'inizio quindi notiamo che tutte le azioni che io faccio da utente all'interno di imax in realtà hanno una controparte in imax lisp e possono essere scriptate con degli script di imax lisp e questo è il grande potere di questo linguaggio quindi vabbè io mi calcolo questa descrizione e poi calcolo l'insert finale cioè eseguo l'insert finale ovviamente ora da notare ovviamente che questa insert inserisce la stringa che prende come argomento che questa grande concat nel buffer corrente il buffer corrente però è questo width and buffer perché io chiamo la gen rss entry all'interno di questo buffer temporaneo che poi scrivo solo alla fine dell'rss feed nel file ovvero nel disco proprio del sistema operativo e che cosa inserisce qui beh fa una concat di vari elementi che sono proprio gli east item sono ciascun video a un item e quindi metto il titolo metto il guide metto il link metto la pub date e metto la description cioè fondamentalmente io vado a generarmi esattamente questa struttura il titolo lo prendo dal video faccio un asoc default title video quindi vado a prendere la proprietà title dal video faccio il guide faccio una format string in cui prendo il name della repository e poi l'id generato da youtube tipo in questo caso è youtube hang e poi qui c'è l'id generato da youtube e via dicendo ovviamente lì puoi entrare troppo nei dettagli ma fondamentalmente l'idea è che queste sono tutte funzioni base tranne questa questa format rss date che è una funzione custom che cosa fa prende la data di pubblicazione che ho salvato nel mio file org che in questo caso appunto youtube.org io qui la data come ce l'ho ce l'ho in questo tipo di formato tipo anno mese e giorno 2024 02 14 e lui che cosa fa chiama la funzione youtube git format rss date con questa custom date quindi è come se lui prendesse la string in questo modo e io il ritorno di questa funzione che cos'è è tipo è questo qui quindi posso andare qui sotto posso andare in messages martedì 14 febbraio 2024 se io metto tipo il 4 febbraio sarebbe domenica 14 aprile perché questo è il mese se io voglio il 4 il 4 febbraio è domenica 4 febbraio 2024 eccetera eccetera quindi è un modo per formattarmi la data utilizza delle funzioni interne di max lisp ma più o meno questa è l'idea e infine continuando che cos'è questa gen description by video gen description by video quindi che cosa faccio che cosa qui è un pochino più complessa la funzione però siamo verso la fine quindi questo va bene quindi è un pochino più complesso ora che cosa va questa funzione questa funzione nuovamente ha un let quindi questo è il let e poi ha un body ora però nuovamente il let in questo caso notiamo che fondamentalmente il let è quasi tutta la funzione quindi diciamo la difficoltà di questa funzione è che io definisco tante variabili e per calcolarmi queste variabili faccio varie operazioni diverse ma una volta che mi sono definito le variabili il body effettivamente è quello che mi fa questo kill new full description e poi ritorna alla full description ora perché faccio questo kill new perché così io mi metto la descrizione anche nella mia clipboard perché questo è una cosa che faccio anche quando devo caricare il video devo caricare la descrizione io fondamentalmente che cosa posso fare posso fare youtube gen description qui metto per esempio il progetto qui metto il video di cui sono interessato di base quella injection e lui nella clipboard mi mette tutta quanta la descrizione così io posso copiare incollare eccetera eccetera quindi questa fondamentalmente l'idea ora qui che cosa sto facendo sto facendo la concatenazione di tre valori che sono il la private path con lo slash con il metadata file che sarebbe lo youtube.org qui specifico una query questo è interessante perché perché nel momento in cui io devo leggere dati dal file org io devo devo interagire con la sintassi di org mode ora imax lisp offre delle facilities per fare esattamente questo ora in particolare la facilities che ci interessa è questa org map entries ora forse questa è un po' troppo complessa da spiegarle in questo video quindi cercherò un po di intuitivamente dire che cosa fa e magari in un video successivo posso approfondire esattamente come funziona ma fondamentalmente l'idea è che tramite questa funzione io sono in grado di leggere specifiche sezioni di questo file org è come se fosse un parser o comunque contiene un parser che cosa mi permette di fare mi permette di leggere questo file org come se fosse un albero con una struttura alboria e mi permette di filtrare per esempio gli posso dire guarda dammi tutti quei per esempio in questo caso lui ha il video e quindi lui vuole ottenere la descrizione quindi nella query perché questo org map entries prende una query in input fondamentalmente prende tre argomenti che sono la funzione da applicare una query e una lista di che va a specificare fondamentalmente dove applicare questa funzione la query che cosa stai indicando qui la query sta dicendo guarda il valore di youtube deve essere uguale all'id di youtube presente nel video di cui voglio esportare la descrizione quindi è come se dire tra tutti i video io qui nei vari video ovviamente ho un vario id e però dico tu mi devi prendere soltanto quello il cui id matcha l'id del video che vuoi esportare quindi come se fosse una cosa di filtering questo il label è semplicemente per aggiustare la lingua come scrivere le cose ma niente di che ora una volta costratto il raw data ovvero tutti i dati di quel di quella particolare entry di org vado ad estrarmi da questa entry soltanto la descrizione il time stamp e le references e come faccio a fare questo lavoro con queste funzioni che sono cda dr cda ddr cdr ora in realtà questo è il cdr di cda ddr ora qui nuovamente lo potrei scrivere in modo molto molto più comprensibile ma fondamentalmente è tutto tutti i dati della entry di org mod sono formattati sempre con le liste di con il formato di lispa quindi gli iso di liste di liste io vado a dire ok dammi questo valore poi dammi quest'altro dammi quest'altro e in particolare io estraggo il contenuto della description il contenuto del time stamp e il contenuto delle references e poi che cosa faccio il template fondamentalmente della descrizione è il format in cui metto una mega un mega concat di per ottenere la forma stringa e poi utilizzo questa forma singh in cui ci metto all'inizio la descrizione poi ci metto il time stamp poi ci metto fondamentalmente qui ci metto i riferimenti references che può essere scritto riferimenti o references e poi ci metto i contatti che può essere scritto contatti o contacts a seconda se sto in inglese oppure in italiano esatto e quindi poi fondamentalmente qui metto tutta questa roba qui ovviamente per calcolare qui calcolo pure il materiale in modo dinamico in cui prendo creo il il link di github a seconda del repository della pubblicazione del video e del nome pubblico di questo video all'interno della repository git e poi alla fine ritorno tutta questa roba e la full description nuovamente cosa faccio apro un buffer temporaneo inserisco il template vado all'inizio del buffer tolgo tutte le righe che iniziano con begin example e end example e poi ritorno la stringa e quindi tutta questa full description alla fine è letteralmente quello che ho copiato prima qui tipo in questo caso io faccio gen description metto un qualsiasi video tipo SQL injection e ottengo tutta questa roba ora qui non ho spiegato iper in dettaglio come funziona questo org ma pantries e perché faccio questa roba ma questo magari in un video successivo perché non voglio rendere questo già troppo troppo lungo penso che sarà già lungo quindi non andiamo ad esagerare e niente fondamentalmente ci siamo alla fine perché perché l'unica cosa che ci manca da vedere adesso è questa youtube videos questa update rss by repo e questa videos by date abbiamo tre funzioni da analizzare e andiamo ad analizzare in particolare questa youtube videos quindi possiamo appunto descrivere questa che è una delle funzioni più importanti che quando ho scritto tutto questo codice questa è stata una delle prime funzioni che ho scritto perché ovviamente io adesso sto presentando questo codice in un modo lineare partendo dall'inizio e andando alla fine ma in realtà arrivare a questa struttura che è molto modulare e che mi permette di concentrarmi ogni volta su ciò che mi interessa se voglio cambiare qualcosa all'inizio lo cambio qui se voglio cambiare qualcosa specifico nel modo in cui genero le entry dei singoli video la cambio qui e via dicendo arrivare a questa struttura ha richiesto comunque del lavoro ha richiesto varie iterazioni di scrittura di questa cosa e soprattutto ha richiesto varie ricerche perché all'inizio non sapevo utilizzare tutti questi costrutti alla fine proprio scrivendo queste piccole demo che comunque fanno già del lavoro utile perché automatizzarmi il feed rss con poco poche righe di codice alla fine perché sì sono 300 ma sono veramente poche soprattutto sono molto comprensibili per me comunque è molto molto utile e quindi che cosa fa questa funzione bene l'obiettivo di questa funzione è ritornare la lista di video di questa specifica repository ora come la possiamo utilizzare bene la possiamo utilizzare in questo modo se io chiamo la funzione youtube git videos ovviamente lui voglia una repository giusto e io posso ottenere la repository con la funzione youtube git select repository io faccio così lui mi chiede la repository tipo youtube hang e poi mi ritorna tutto questo marasma di roba che ovviamente uno potrebbe dire cavolo ma c'è un boetto di roba bene l'idea è che io per ogni video ho questa descrizione io per ogni video ho questa lista e quindi ho il titolo la playlist la data di pubblicazione l'id ritornato da youtube private e public sono le informazioni principali per ogni video e poi soltanto nella funzione di genera description vado a leggere anche le entries description time step e references del file org per la maggior parte delle cose mi basta questa lista di metadati effettivamente che sono titolo playlist pubblicazione id youtube private e public e quindi più o meno questo è quello che fa e per ogni video mi ritorna questa lista quindi è una lista di liste questo è più o meno il mindset che uno deve avere quando programmi in lisp ora che cosa qui prima vado a diciamo a ottenere il file org cioè calcolo il path del file org come bene concatenando la posizione della del valore private della repo con lo slash con il metadata file e quindi vado a dire ok qui è dove sta il mio youtube dot org che va a diciamo organizzare questa particolare questa repository specifica e poi definisco questa query ora questa query interessante perché possiamo vederne il valore già da adesso e il valore è questo a youtube uguale queste graffe punto più questa è una spesa è una sintassi specifica della funzione org map entries che è quella che ho utilizzato prima per estrarre la descrizione che cosa fa questa volta mi va a prendermi tutte le entry che hanno nelle properties l'header youtube la property youtube cioè che vuol dire vuol dire che in questi outline per esempio web exploitation è una specie di outline è un header ma non ha nessun tipo di property invece introduction to web exploitation ha delle properties e in particolare alla property youtube con questo di specifico e quindi io estrago soltanto tutte quelle entries che hanno questa particolare property con un valore specificato quindi se io qui tolgo il valore io non sto più selezionando questa particolare entry se io metto il valore la sto selezionando l'idea è molto base che se io non ho caricato un video io non ho ancora l'id per esempio qui è numeration virtual host io qui non ho nessun tipo di property di youtube id uguale eccetera e quindi lui non me la e quindi lui me la filtra cioè non me la seleziona perché perché ho fatto questa particolare query quindi l'idea è appunto read youtube.org and extract over all org mode lines and select only those that have a youtube property assigned from the org entries only extract the things we care about to construct our table of contents che sarebbe questa cioè quale l'idea è io vado a fare una set queue local quindi questa qui non è più set queue ma è set queue local perché perché io sto lavorando all'interno di un buffer temporaneo quindi ho questo with temp buffer cioè sto definendo delle variabili locali al singolo buffer e questo è perché perché questa variabile andrò a modificare nel corso del tempo farò fondamentalmente tre assegnazioni ad entries ciascuna modificherà il valore di prima cioè una specie di shadowing ogni volta modifico entries ma piuttosto che introdurre una nuova variabile io la riassegno allo stesso nome simbolico sempre entries e quindi per questo faccio una set queue local all'interno di un buffer temporaneo la prima si va a prendere tutti i dati raw quindi che vuol dire vuol dire che utilizza la org map entries su questo particolare file org con questa particolare query quella che ho fatto vedere prima e per ogni entry selezionata lui fondamentalmente notiamo qui è interessante io ho una lambda ma questa lambda all'interno contiene un let che contiene delle properties che sono ottenute dalla funzione org entry properties e poi il risultato di questa let è una list di cui c'è un un operatore chiamato backtick ora non entrerò troppo troppo nei dettagli ma fondamentalmente l'idea è tutta questa lista è quotata ma io voglio valutare soltanto alcune parti della lista che vuol dire vuol dire supponiamo di avere per esempio un più uno e poi faccio meno due tre io vorrei quotare tutta questa lista quindi faccio il quote così però poi vorrei valutare questa parte interna ora con il quote così io non posso dire quale valutare o quale no se invece utilizzo il backtick questo backtick e poi faccio metto una virgola qui la virgola questa per dire guarda questa parte tu la valuti ma tutto il resto no quindi il risultato che ottieni poi tu lo piazzi lì come simbolo ed infatti il risultato di questa backtick qual è andiamo a vedere è più uno meno uno dove meno uno qui è proprio il simbolo meno uno qui magari potrei mettere tipo più cinque tre quindi notiamo è il risultato di questo è ottenuto valutando questo interno ma non valutando il risultato totale quindi mi rimane come un più uno otto quindi questa è l'idea del backtick quindi faccio questo backtick per estrapolarmi tutte le properties che mi interessano titolo playlist publication youtube private public e qua c'è un layer di indirezione perché piuttosto che specificarli in modo arcote dalla il la proprietario che faccio me la vado a prendere tramite la funzione le bel tutti questi cioè questa qui mi traduce tipo fondamentalmente rispetto alle proprie rispetto a come scrivo le properties se scrivi in maiuscolo se scrive in un modo leggermente diverso io manipolando questa o il controllo su quello che succede fondamentalmente è infatti è l'unico punto in cui del codice in cui utilizzo questa roba tutti gli effetti è proprio lì quindi questo pure nel video ok e qui faccio questo e quindi a questo punto io ho una serie di entries con tutti questi diciamo metadati ora dopo aver preso tutte quante le entry dal file org ne le comincio a filtrare e qui faccio un filtering molto semplice in particolare come le filtro rispetto a quelle che non sono ancora state pubblicate oppure quelle la cui data di pubblicazione è successiva alla data corrente e quindi dico per esempio qui faccio una sec filter di tutte le entry dove la funzione lambda è una end quindi verifica un end tra due condizioni logiche la prima condizione logica cioè vuol dire che per selezionarla devono essere vere entrambi qui per esempio fa l'equal tra il to be decided nella pubblicazione cioè vuol dire che non deve essere vero che la data di pubblicazione deve essere decisa in altre parole deve essere già stato pubblicato e qui invece tramite l'org string minore uguale mi vado ad assicurare che la data di pubblicazione è più piccola della data corrente perché se la data di pubblicazione è tra un mese allora io non voglio selezionare quel video perché non lo voglio mettere nel feed rss altrimenti potrei fare il licca di futuri video che voglio fare nel feed e non voglio questo e poi tutto questo lo metto sempre in entries e infine effetto un semplice sorting utilizzando la data di pubblicazione cioè li voglio ordinare dal video facendo partendo dal video più recente al video più vecchio infatti nel feed all'inizio anche quando lo genero il primo è quello più recente l'ultimo è quello più vecchio naturalmente quindi ci deve essere questa tipo in questo caso il 19 settembre e niente poi ritorno l'entris quindi in realtà è molto molto straightforward cioè io faccio una serie di operazioni e poi ritorno i video una volta che sono stati filtrati e una volta che sono stati ordinati e quindi questo fondamentalmente conclude il flusso di generazione perché qual è l'intero flusso di generazione bene faccio gen rss e chiama gener ss by repo e seleziono la repo in modo interattivo gener ss by repo che cosa fa mi genera prima tutti i tag iniziali tutti i tag finali e poi per ogni video mi chiama gener ss entry gener ss entry mi scrive fondamentalmente l'entri per quel particolare video e ho fatto questo è tutto il flusso ora le ultime due cose che ci mancano sono l'update video by date e l'update rss ora con l'update rss fondamentalmente è una cosa molto simile perché io ho una serie di cose che mi calcolo tipo rss file name rss feed content insertion point e latest video date quindi l'idea è mi calcolo vabbè la path pubblica dalla repository mi calcolo il file del feed rss mi leggo tutto il contenuto del feed in memoria quindi faccio with and buffer faccio un insert file contents e poi mi ritorno l'intero buffer dopodiché vado a capire dove inserire il nuovo video cioè mi vado a prendere proprio questo insertion point questa cosa interessante e io lo voglio inserire dopo questo channel slash slash n quindi mi vado a trovare questo punto e poi ritorno proprio il point il point specifica è la posizione del cursore all'interno del buffer e me lo salvo nell'insertion point e infine mi vado ad estrarre fondamentalmente l'ultima data di pubblicazione diciamo la data del video più vecchio latest video date e poi mi vado a prendere tutti i video che sono stati pubblicati dopo quella data dove questa data la prendo direttamente dal feed rss cioè come se io utilizzassi ok qual è il video più vecchio che ho pubblicato effettivamente nell'rss e quali sono invece tutti i video nel mio file org che sono dopo quel video e poi tutti questi nuovi video li inserisco fondamentalmente all'interno del buffer for each video ad un item quindi qui faccio faccio go to insertion point per andare nel cursore nel punto di inserzione faccio un map car sempre per inserirli esattamente come ho fatto prima e poi scrivo il file quindi sono andato un po veloce ma l'idea appunto è che uno io poi che cosa consiglio di fare di prendere snippet di questo codice che è disponibile e di giocarci uno può fare degli esperimenti può provare sempre all'inizio con valore arcoded con cose comunque in cui noi dovremmo capire un po il funzionamento e poi le mettiamo in un programma effettivamente funzionante di questo tipo e questa volta però per filtrarmi tutti i video dopo una certa data io non utilizzo più la funzione youtube to get videos ma utilizzo una specie di funzione gemella quasi che sarebbe youtube to get videos by date ovvero è un'altra funzione in realtà io queste due le dovrei accorpare in una singola ma ancora non l'ho fatto perché questa videos by date è letteralmente uguale è una copia della funzione videos però oltre a filtrare rispetto alle date classiche faccio anche un filtro in rispetto a dire ok la data deve essere prima del giorno di oggi ma dopo il parametro che tu mi dai cioè vuol dire tutti i video dopo questa certa data sempre però prima di quella di oggi quindi devo questa parente l'unica riga che aggiungo a queste condizioni and per questo dico che devo semplicemente unificare le due funzioni devo mettere un parametro opzionale e dire se c'è questo parametro allora mi metti questa condizione land altrimenti no una cosa del genere quindi poi tutto il resto uguale e quindi non cambia niente fondamentalmente questa è la cosa interessante di questo update e appunto è il calcolo dell'insertion point l'estrazione di questa informazione dalla feed rss e il fatto che filtro i video anche rispetto a quella data e quindi con questo siamo arrivati alla conclusione di questo video spero che sia stato interessante spero che vi abbia dato uno stimolo per andare provare a fare esperimenti con questo linguaggio imax lisp che si integra veramente bene con imax spero che comunque qualcuno è rimasto fino alla fine in caso fatemelo sapere nei commenti e niente il codice a disposizione quindi lo potete scaricare basta andare qui cliccate ve lo scarica il browser e lo potete leggere licenza mt quindi ci potete fare quello che vi pare basta mantenere questa licenza e niente spero che il video sia stato interessante e al prossimo video